Un giorno Gesù e il diavolo conversavano e Gesù gli chiese cosa stava facendo con le persone qui sulla terra. Il diavolo rispose mi sto divertendo con loro, gli insegno a fare bombe e ad usare le armi, ad uccidere, a odiarsi l'un l'altro, ad amusare dell'infanzia, insegno ai giovani a usare droghe e a bere, a mentire e a fare ogni cosa proibita. Mi sto divertendo tanto. Gesù domandò, e poi che farai con loro? Dopo la farò finita con tutti. Gesù chiese quanto vuoi per loro. Il diavolo gli rispose non dirmi che ami queste persone, sono traditrici, bugiarde, false, egoiste e avide. Loro non ti ameranno mai veramente, ti bestemmeranno e scuteranno sul tuo volto, ti disprezzeranno e non ti terranno in nessuna considerazione. Quanto vuoi per loro, diavolo? Voglio tutte le tue lacrime e tutto il tuo sangue, detto falco, e Gesù pagò il prezzo della nostra salvezza. A volte noi ci dimentichiamo di Gesù, crediamo in tutto ciò che ci insegnano, ma mettiamo in discussione tutto quello che viene da Lui. Le persone si mandano scherzi per e-mail, passandoseli l'un l'altra alla velocità della luce, ma quando il messaggio è su Dio, le persone ci pensano due volte prima di mandarlo e condividerlo con altri. Molti dicono di credere in Dio, ma, in realtà, cosa fanno per Lui? È vero, Gesù non è un argomento che le persone vogliono ascoltare. Ricorrono a Gesù solo quando si trovano in grandi difficoltà. E tu, quando finirai di leggere questo messaggio, lo manderai a qualcuno. Chi riceverà questo messaggio, solo Lui lo saprà. Non temere, figlio mio, sarò sempre con te, anche quando credi di essere solo. Che la pace sia con te. Siano benedetti i destinatari di questo messaggio. Un abbraccio. Un abbraccio. Un abbraccio. Un abbraccio. Un abbraccio. Un abbraccio. Un abbraccio.